L'attore britannico aveva giurato di non volersi più, risposare, ma meno di un anno con Sabrina Daur li ha fatto cambiare idea. La proposta di nozze così arriva a sorpresa, prima di San Valentino luglio 2017. Il matrimonio non è la mia chiamata della vita. Non credo che mi risposerò. L'ho già fatto e non è per tutti. Idris Elba così sosteneva e ne era certo, dopo due divorzi alle spalle, con la make-up artist Anne Norgard dal 1999 al 2003, mamma della sua Isan, 15, e con l'avvocato Sonia Emlein per soli sei mesi del 2006. Settembre 2017. L'attore, 45 anni, si presenta accompagnato al Toronto International Film Festival. La fortunata è Sabrina Daur, 2, modella ed ex Miss Vancouver. Ha tutte le carte in regola per farlo vacillare nelle sue certezze. Detto, fatto, bastano 5 mesi. Ed ecco che a inizio febbraio Idris è un uomo nuovo. Decisamente molto innamorato. La scena, subito condivisa via social dal pubblico, arriva da un cinema londinese. L'attore a sorpresa si inginocchia durante la proiezione del suo nuovo film, Yardie, e chiede a sorpresa a Sabrina di sposarlo. Lei, emozionata, fa sì con la testa. Manca poco meno di una settimana a San Valentino.